Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo da Gianni, titolare del centro CMT Motor di Vicenza. Buongiorno a tutti, ciao Domenico, io sono Gianni Tancredi, titolare del centro CMT Motor di Vicenza di Viare San Lazzaro 209. Sono aperto dal mese di aprile e ad oggi posso ritenermi veramente soddisfatto della decisione presa. Ho conosciuto CMT Motor tramite Facebook e questo nuovo format così innovativo mi ha incuriosito a tal punto da iniziare a prendere informazioni su questa azienda. E dopo breve termine ho veramente deciso di aprire questa attività che mi ha permesso di realizzarmi sia professionalmente che economicamente, iniziando a vendere praticamente da subito. Gianni, eri insoddisfatto del tuo lavoro, cosa ti ha portato ad aprire un centro CMT Motor? Io vengo dalla grande distribuzione e precisamente sono sempre stato store manager. Il mondo del lavoro ormai è cambiato tanto e questo mi ha spinto sia a livello economico che a livello professionale a voler fare qualcosa di mio e a voler aprire un'attività che rispondesse anche alle mie passioni. Sono appassionato di moto da sempre e quindi perché non un negozio di questo tipo. Gianni, cosa ti senti di avere realizzato a distanza di pochi mesi dell'apertura della tua attività? Beh, con oltre 50 veicoli venduti da aprile e ottobre io direi che sicuramente a livello economico, sicuramente una buona stabilità. A livello professionale mi sento veramente molto molto soddisfatto. Te la sentiresti di consigliarlo ad un amico? Beh, sicuramente sì, anche perché sto cercando in realtà un amico col quale aprire magari già un secondo centro sempre nella zona. Grazie.